merita business podcast il podcast che ti insegna a usare internet per far crescere il tuo business a cura di giorgio minguzzi wellness marketing power il digital marketing incontra il wellness lo sport e il fitness 18 relatori e 8 ore di formazione dal vivo scopri la potenza del digital marketing facebook instagram linkedin sono solo alcuni dei superpoteri che imparerai a dominare promuovi e rendi speciale il brand del tuo centro sportivo o professione online wellness marketing power a roma sabato 24 marzo al the church place sull'aurelia wellness marketing power promo speciale due per uno per tutto febbraio info e biglietti su wellness marketing power.com benvenuti su merita business podcast io sono giorgio minguzzi e vi devo dire che la puntata di oggi sarà davvero interessante perché parleremo di una opportunità di marketing che ci circonda e di cui spesso non ci accorgiamo nemmeno parliamo oggi di digital signage una forma di comunicazione di prossimità anche note in italia come segnaletica digitale video poster oppure cartellonistica digitale certo siamo così abituati agli schermi che a forza di vederne non ci rendiamo nemmeno più conto delle immagini e dell'audio che ci passa sopra ma questo è un limite perché quegli schermi possono essere usati per fare molto ma molto di più che rimanere spenti o far vedere una partita un telegiornale senza audio proprio per questo ho coinvolto alessandro messineo di wallin perché il digital signage è un'opportunità che ci offre il digitale è solo che dobbiamo capire come fare a coglierne i benefici fino in fondo per chi non conosce se alessandro messineo alessandro è l'amministratore delegato di wallin un'azienda che sviluppa soluzioni innovative per la gestione di contenuti multimediali sugli schermi ovviamente soluzioni basate su cloud con lui cercheremo di capire quale opportunità si possono cogliere grazie alla segnaletica digitale ed ecco perché penso che questo episodio sarà davvero utile a tanti a tantissimi ascoltatori del podcast non facciamo quindi attendere oltre il nostro ospite alessandro benvenuto su merita ciao giorgio grazie per il benvenuto e un saluto a tutti gli ascoltatori del del podcast grazie alessandro di essere qui con noi oggi parliamo di digital signage come sempre cerchiamo di chiarire alcuni aspetti quindi cominciamo dalle basi che cos'è il digital signage sì allora il io lo pronuncio all'inglese perché dopo anni di esperienza sul mercato italiano l'ho sentito veramente pronunciare in n mila modi diversi il digital signage è a tutti gli effetti una forma di comunicazione che si basa sulla visualizzazione di contenuti digitali come immagini video su qualunque tipologie di schermo e di monitor ti sarà capitato di entrare in una stazione in un aeroporto in un negozio in una palestra ed aver visto uno schermo un monitor il digital signage è proprio quella forma di comunicazione che poi è anche a tutti gli effetti uno strumento che permette alle attività commerciali ma non solo di veicolare contenuti informativi o promozionali o di vario tipo come poi andrò meglio dopo a spiegare su appunto proprio gli schermi quindi se ti dovessi fare un paragone il digital signage può essere comparato a tutti gli effetti con un canale televisivo personalizzato composto da contenuti multimediali informativi e di intrattenimento alternato volendo anche da segmenti pubblicitari ecco da dove viene questo questo tipo di di prodotto di nicchia di esperienza che fanno gli utenti ma devo se vogliamo analizzare la forma di comunicazione dovremmo andare ai tempi dell'antichità quando i nostri antenati raccoglievano e scambiavano informazioni con i graffiti addirittura sulle pareti delle caverne perché se andiamo ad analizzare il termine digital signage la parola stessa tradotta letteralmente in italiano significa segnaletica digitale è alquanto riduttivo paragonare il digital signage a una segnaletica perché non è proprio oggi una segnaletica ma l'origine digital signage è proprio quella cioè l'idea di trasferire il linguaggio che oggi o meglio ieri era su carta su un formato multimediale che quindi possa essere interattivo dinamico coinvolgente quindi fornire un'esperienza e una visualizzazione che è ovviamente notevolmente migliore rispetto a quella che può essere fatta con un foglio di carta si io ho l'esperienza di questo tipo di soluzione in una coda cioè nella coda per i visti in un'ambasciata e c'era questo questo tabellone che girava e ti chiamava con i numeri e nel frattempo ti faceva vedere dei messaggi quello che ho notato è che lì c'era un'esperienza utente abbastanza interessante perché tu dovevi prendere il visto per viaggiare in un posto e vedevi alcune location ti davano alcuni suggerimenti l'ho visto anche usare in maniera un po' così con le pubblicità locali è una televisione di pubblicità quindi la mia domanda forse è duplice da un lato è cosa mi serve per partire se se ho l'esigenza e come e come faccio a capire se ho l'esigenza di avere un digital signage se è un'opportunità valida per il mio business come faccio a capire se mi può servire o no e se sì come faccio a partire allora per partire oggi nel 2018 serve veramente poco cioè a livello di tecnologia soprattutto di accessibilità alle tecnologie negli ultimi anni c'è stata una grande evoluzione ed è anche questo uno dei dei fattori che ha influenzato la grande diffusione digital signage dieci anni fa cinque anni fa era una tecnologia che veniva utilizzata in grosse catene di negozi in aeroporti in stazioni proprio perché richiedeva hardware e software costi importanti oggi fortunatamente la trasformazione digitale ha interessato anche il settore di digital signage e non a caso per partire quindi un negozio sotto casa anche un alimentari una palestra qualunque oggi tipologia di attività commerciale può utilizzare il digital signage perché è basato su principalmente due cose la prima è il player cioè un computer che viene connesso allo schermo ed è il computer che poi si occupa della visualizzazione dei contenuti multimediali sullo schermo i contenuti che vengono visualizzati mediante questo piccolo computer che può essere a tutti gli effetti paragonato a un apple tv a un android tv quindi certo supponiamo anche un decoder di sky che poi alla fine è un esempio che è facile da capire una scatoletta si a tutti gli effetti i contenuti che vengono visualizzati da questa scatoletta sono controllati da una piattaforma da un software che può essere sia in rete locale quindi può essere installato sul computer o le soluzioni più moderne sono tutte basate in cloud cosa vuol dire vuol dire che l'utente ha accesso a una piattaforma un po come se l'utente facesse il login su facebook su twitter su instagram o su qualunque altro servizio anche spotify o netflix il funzionamento è molto semplice e ad accesso a che cosa un pannello di controllo mediante questo pannello di controllo è possibile far che cosa è possibile andare a selezionare quelli che sono i contenuti che vogliamo vedere sul proprio schermo quindi come veramente avere una sorta di sky però personalizzato per la propria attività commerciale dove il proprietario dell'attività commerciale ha la possibilità di scegliere da una propria banca dati quindi da propri contenuti che possono essere foto video immagini oppure andando anche ad attingere a contenuti che stanno su web e sui social in modo tale da rendere lo strumento quindi la televisione un qualcosa di dinamico informativo coinvolgente con il pubblico senza che l'attività commerciale stessa debba quotidianamente investire tempo nella creazione dei contenuti infatti poi l'elemento contenuto è sicuramente un argomento caldo ma immagino che sarà oggetto di una prossima domanda quindi non sveglio niente ma lo approfondisco dopo per non accavallare le domande come quindi per rispondere alla tua seconda domanda come posso capire se il digital signage è una buona opportunità per il mio business prima di tutto io quello che che porto e consiglio di riflettere è se oggi stai stampando un pezzo di carta un volantino con scritto un messaggio di marketing lo stesso messaggio di marketing può essere visualizzato su uno schermo con un ritorno sull'investimento con un potenziale estremamente più alto quindi tecnicamente il digital signage è per tutte quelle attività che vogliono comunicare con il proprio pubblico con i propri clienti con i con i passanti con i visitatori e vogliono uno strumento che sia molto più dinamico e soprattutto moderno rispetto al volantino lasciato sul banco di un negozio oppure attaccato a un vetro proprio perché il digital signage elimina quelli che sono i limiti comunicativi che differenziano ciò che è statico cioè quindi generalmente un foglio di carta a ciò che è dinamico perché per definizione un video regala un'esperienza molto più appagante rispetto a un'informazione statica ma soprattutto il digital signage permette di aggiornare i contenuti sugli schermi con una facilità estrema io posso per esempio far vedere un'offerta la mattina e far vedere in automatico un'altra offerta il pomeriggio posso adattare il palinzesto quindi la programmazione dei contenuti in base a eventi esterni in base ai giorni della settimana quindi puoi capire benissimo di come l'opportunità offerta al digital signage rispetto a un approccio tradizionale anche alla comunicazione in store è palese è lampante io abito in provincia non abito nella grande città e capisco che sia anche ingiusto guardare una tecnologia per come magari mediocremente viene viene implementato cioè nel ristorante vedo delle foto di magari del gommista o il video del gommista che fa la pubblicità mentre sono in pizzeria e sono abbastanza annoiato da questo contenuto in realtà tu mi stai però dicendo che ci sono altri benefici allora andiamo ad approfondire quali sono i benefici del digital signage per il mio business i benefici del digital signage possono essere riassunti in alcuni punti che vado ad elencarti il primo che mi viene in mente è l'economicità cioè a differenza di anche lì torno a fare il paragone perché è quello più immediato al volantino il se io volessi modificare quello che ho scritto in un volantino di carta lo devo ristampare il digital signage mi permette invece di visualizzare un contenuto nuovo sul mio schermo con un click quindi estremamente più economico da aggiornare è anche molto più efficiente perché come dicevo un attimo fa io posso pubblicare un contenuto diverso a ogni momento della giornata quindi l'efficienza è sicuramente maggiore rispetto a un volantino di carta ma anche la possibilità di intrattenere il pubblico perché un video un contenuto multimediale è sicuramente più accattivante rispetto a qualcosa di statico e poi soprattutto fornire un'informazione facevi l'esempio del numero in coda no quello è sicuramente un caso ma anche i voli quando stai entrando in aeroporto in stazione ma il menù in un ristorante è senza dubbio lo schermo oggi uno strumento di informazione e poi un altro aspetto importante è legato alla possibilità di monetizzare quindi la pubblicità la possibilità di pubblicizzare sia ciò che si vende quindi supponiamo che io sia un ristorante e possa pubblicizzare le foto dei piatti che propongo o un negozio possa pubblicizzare le offerte del momento oppure nel caso magari anche dell'hotel ho il mio hotel e ho fatto delle partnership con i negozi che stanno intorno all'hotel e quindi vado a pubblicizzare le attività locali vicine e quindi questo si trasforma per me in un'opportunità di monetizzazione e poi assolutamente anche la possibilità di fare branding quindi di raccontare quella che è la propria azienda di raccontare quelli che sono i propri valori quella che è la propria missione anche qui nel caso di un ristorante nel caso di una pizzeria posso far vedere il diatroni quinte posso far vedere del latte viene messa nella preparazione dei piatti nella selezione degli ingredienti quindi veramente lo schermo può assumere varie funzioni e può quindi con un unico strumento rappresentare molti benefici quello che dice è interessante cerchiamo di approfondirlo perché così sai magari le persone sono in auto o magari portano a spasso il cane o cucinano cerchiamo di aiutarli ad immedesimarsi in quello che diciamo cioè mi stai dicendo che il digital signage può aiutarmi davvero a far crescere il mio business vale la pena quindi fare alcuni esempi di schemi che possono essere utilizzati no? Sì capita sempre più spesso per esempio di vedere gli schermi quindi il digital signage magari dietro la zona di pagamento dietro le casse quindi non solo per intrattenere durante la coda ma anche per aumentare le vendite ti faccio sapere ti comunico che puoi acquistare qualcos'altro oppure anche in posizione sopraelevata sempre sempre più spesso nei negozi di informatica ma anche nei supermercati dove ci sono quelle corsie molto larghe vengono messi vengono installati sul soffitto o comunque all'altezza sopraelevata dei monitor proprio per guidare le persone all'interno di un percorso o anche nei camerini quindi per consigliare alla persona che in quel momento si sta promando un capo magari di vedere che c'è un determinato prodotto in offerta o anche negli showroom sempre per informare per convincere le persone ad acquistare o anche come faceva apple fino a qualche anno fa posizionare gli schermi accanto ai prodotti quindi in modo tale da utilizzare lo schermo per fornire informazioni aggiuntive sul prodotto stesso o anche all'entrata all'uscita non solo per accogliere e salutare i clienti ma per promuovere e per comunicare determinate informazioni con o potenziali clienti o con i clienti dell'attività stessa faccio sempre esempio del ristorante un monitor messo nella vetrina del ristorante può informare i visitatori sul menu può pubblicare messaggi facebook twitter instagram dei clienti che ci sono già stati può visualizzare le recensioni di trip advisor può visualizzare video immagini può trasformare veramente una vetrina con uno schermo in una persona che attivamente promuove il ristorante a tutti i passanti sicuramente ci sono mille più utilizzi e poi soprattutto nel ristorante dal punto di vista visivo è facile tirare l'attenzione con una bella foto questo succede immagino però anche negli uffici no? sì negli ultimi anni ho visto un trend notevole per quanto riguarda la comunicazione interna perché sì è importante comunicare all'esterno ma è anche importante comunicare all'interno delle aziende soprattutto quando i dipendenti sono tanti e quindi siamo tutti di fretta siamo tutti presi da mille impegni e gli schermi possono proprio diventare degli strumenti per comunicare con i dipendenti quindi comunicare le performance delle aziende comunicare degli eventi comunicare l'agenda del giorno è come se fosse il superamento della classica circolare che un tempo veniva fatta firmare oppure dei post it che vengono lasciati sulle scrivanie oggi gli schermi negli uffici vengono utilizzati proprio come strumento per informare le persone all'interno dell'azienda e anche per creare una cultura aziendale solide e trasparente perché quando utilizzo lo schermo per visualizzare delle informazioni di pubblico interesse posso sfruttare gli schermi anche per trasmettere quelli che sono i valori quelli che sono norme di comportamento quelli che sono regole diventa veramente anche qui il superamento delle classiche bacheche digitali scusami bacheche cartacee che spesso venivano utilizzate nelle aziende per attaccare il regolamento o per attaccare determinate informazioni anche i semplici orari di ingresso e di uscita io credo che gli uffici a maggior ragione siano quel luogo dove nei prossimi anni il digital signage vedrà più applicazione perché è proprio negli uffici che le informazioni da comunicare sono dinamiche sono sempre nuove e visto che le persone hanno sempre meno tempo per fermarsi lo schermo è il strumento giusto per catturare la loro attenzione sicuramente mi ha impressionato quello che tu stai dicendo adesso perché comunque negli uffici ho cominciato a vederle qualche anno fa dalle postazioni di benvenuto dove nello schermo comunque oltre a far vedere i prodotti si saluta anche la persona che sta arrivando in visita in azienda oppure negli hotel, negli ascensori dove c'era una specie di tablet attaccati vicino alla pulsantiera che ti raccontano la rava e la fava di quello che succede nell'hotel che non so, nel ristorante indiano dell'hotel c'è questo quello che mi domando è ok, fino adesso abbiamo parlato di una cosa senz'altro utile ma è di una comunicazione tipo broadcasting cioè l'azienda parla o c'è qualcuno che decide che parla ma non accetta replica, non c'è interazione bene, quando arriviamo all'interazione con le persone immagino che ci possano essere mille più vantaggi quindi come interagiscono le persone con lo schermo? si creano delle interazioni già o è ancora un po' troppo presto? allora, il digital signage può essere utilizzato sia come tecnologia per visualizzare un contenuto quindi diciamo l'interazione vista come la persona che tocca lo schermo non viene presa in esame ma può essere appunto utilizzata anche come tecnologia che invece favorisce e stimola la persona a interagire con lo schermo faccio l'esempio dei chioschi oggi sono sempre più diffuse nelle città nelle stazioni, nell'aeroporto ma anche nei negozi gli schermi dove grazie al topo la persona può accedere ad informazioni aggiuntive su un prodotto oppure può per esempio sapere dove all'interno per esempio di un mall il Zara è locato, è ubicato nel terzo piano, nel secondo e nel primo quindi principalmente oggi l'evoluzione più classica che ho visto e che mi aspetto nei prossimi anni di Digital Signage sarà sempre più legata all'interazione come tocco della persona ma non solo perché grazie agli smartphone che sono con noi oramai sempre nella nostra tasca, nella nostra borsa e grazie soprattutto al bluetooth e alle tecnologie di prossimità sto vedendo sempre più spesso interesse verso anche i beacon quindi tecnologie che hanno la prossimità della persona con lo schermo per fornire informazioni oppure per stimolare la persona ad avvicinare magari lo smartphone o avvicinare il prodotto per avere informazioni aggiuntive nel caso della scarpa se io posiziono un sensore sotto la scarpa e avvicino la scarpa magari allo schermo riesco a vedere più informazioni sulla scarpa stessa oppure se posiziono due sensori su due scarpe posso alzando entrambe le scarpe visualizzare una comparativa dei prodotti stessi quindi in questo caso vediamo come il digital signage non è uno strumento che visualizza contenuti stabiliti da un terzo secondo una programmazione predefinita ma è l'utente grazie al tocco che decide quello che deve essere visualizzato in quel momento sullo schermo e quindi io credo che in questo caso la potenzialità dello strumento sia elevata alla potenza perché in questo modo il digital signage fornisce delle informazioni che sono estremamente rilevanti per la persona che è davanti allo schermo perché è lui con il proprio tocco con un'azione che va a decidere quello che in quel momento deve essere visualizzato sullo schermo quindi ci stai dicendo che presto alla macchinetta del caffè ci sarà altra quella scritta torna a lavorare torna a lavorare potrebbe essere uno dei casi col sensore misura i minuti il caffè l'hai già bevuto torna alla scrivania sicuramente mi hai convinto perché è interessante è un'opportunità in più per comunque coinvolgere il cliente o il dipendente tutto bello però continuiamo con questo racconto perché secondo me qui c'è del valore il vero forse valore del digital signage cioè che cosa faccio girare su questi schermi e questi dispositivi è importante come ogni strumento di comunicazione come pongo attenzione alla creazione di una newsletter come pongo attenzione alla creazione di un sito web di un volantino di una brochure anche il digital signage deve essere visto come uno strumento che ha una sua idea cioè deve essere inserito all'interno di un progetto deve essere inserito all'interno di un messaggio con ovviamente un obiettivo uno degli obiettivi che invito i miei clienti a riflettere su cui riflettere per creare un contenuto efficace è senza dubbio aver chiaro che cosa raccontare e soprattutto sfruttare il digital signage per raccontare una storia come dicevo prima nel caso della pizzeria del ristorante far capire come viene prodotta la pizza quindi l'attenzione per le materie prime per gli ingredienti di qualità o anche la maniera nella quale viene cotta il forno a legno eccetera eccetera quindi strumento il digital signage per raccontare una storia e soprattutto mantenere sempre l'attenzione sul coinvolgere le persone perché ne parlavamo un attimo fa il digital signage è ancora più efficace quando riesce a coinvolgere le persone quindi non è la classica pubblicità che vedi sul monitor in stazione che quasi non guardi ma se io se io vedo se io percepisco la possibilità di interagire con lo schermo certamente la mia attenzione sale e questo magari lo posso fare attraverso la condivisione di messaggi facebook messaggi instagram messaggi twitter oggi le soluzioni moderni digital signage sono in grado in tempo reale di visualizzare i messaggi che provengono dai social e quindi di invitare le persone anche a moderarli anche a moderarli sì anche questo è assolutamente un punto importante sul quale io invito sempre molto a riflettere nella scelta della soluzione digital signage perché è importante che abbia non solo strumenti di ricezione dei messaggi ma anche di moderazione e oggi viene molto utilizzato anche negli eventi anche sotto forma di social wall quindi l'idea è proprio di creare un muro con i messaggi che vengono condivisi in tempo reale dagli spettatori dal pubblico dai clienti che quindi si trasformano non solo in brand ambassador perché condividono il tuo brand condividono la tua marca condividono il tuo prodotto ma si sentono dall'altra parte glorificati si sentono parte di un'esperienza nuova perché vedono la propria faccia e il proprio messaggio sugli schermi stessi certo e per creare un contenuto efficace è importante anche chiedersi formazione che sto comunicando è utile è aggiornato è aggiornata può interessare a qualcuno quindi creare sempre un'informazione pensando a chi andrà a vedere quel contenuto se quel contenuto stesso può essere interessante e ovviamente utilizzare il digital signage per promuovere la propria attività quindi sfruttare lo schermo per mostrare le foto dei propri prodotti per mostrare le offerte per mostrare qualcosa che sia inerente alla propria attività perché ricordiamoci che il digital signage sostituisce la classica televisione accesa sul radio mediaset che ovviamente fa vedere il programma e la pubblicità di terzi ecco pensiamo sì e molte volte è fastidioso perché magari mi coglie cioè mi attiva l'attenzione a una cosa e o non c'è la voce o il rumore mi dà fastidio quindi non riesco a capire e la frustrazione che provo è grandissima più mi interessa quello che mi hai fatto vedere cioè paradossalmente mi fai vedere una cosa mi interessa e poi mi punisci che non la posso vedere bene doppiamente controproducente e spesso e questo mi fa male da come dire esperto del settore vedere i monitor spenti veramente l'ottanta per cento sarà che ci faccio caso dei ristoranti delle piccole attività commerciali che tutti i giorni mi capita di vedere specialmente nei piccoli contesti nei piccoli borghi nei piccoli paesi vedo lo schermo spento perennemente spento e il problema è sempre quello cosa ci faccio vedere che contenuto mostro e questo è doppiamente controproducente perché io ho comprato uno schermo ho lo strumento per comunicare con i miei clienti o con i miei potenziali clienti ma lo lascio spento a che senso ha che pro ho comprato questo schermo il problema è che a volte le persone comprano una cosa e poi si accorgono dei costi che ci sono dietro cioè mi spiego con un esempio personale lavoravo in un'azienda dove si è deciso di comprare uno schermo gigantesco adesso non ti so dire i pollici che era però alto non so due metri per quattro cinque una roba enorme diciamo era un muro a schermo con il touch screen è chiaro che tu potevi fare quando ce l'hanno venduto la cosa era bellissima che tu facevi dei video c'erano dei video promozionali che sembrava di essere dentro il minority report dove c'è Tom Cruise che sfoglia il passato il futuro muovendo le mani e gesticolando poi quando se ne sono andati hanno venduto questa cosa noi abbiamo scoperto che preparare quei contenuti lì non era solo oneroso dal punto di vista economico perché dovevi coinvolgere società specializzate ma era anche oneroso dal punto di vista del tempo no assolutamente sono contenuti costosi da produrre quindi se devo alla fine mettere sulla Rai che qualcuno puoi dargli da fastidio allora a quel punto la spengo la domanda quindi che ti faccio adesso è bellissimo tutto quello che hai detto però i contenuti sono costosi da produrre specialmente se non voglio annoiare le persone perché poi devono essere fatti bene in maniera professionale quindi come risolvo questo problema Giorgio hai perfettamente ragione il problema oggi maggiore di chi investe e acquista una soluzione di digital signage è la produzione dei contenuti e io ritengo che sia anche la motivazione principale per la quale la maggior parte delle attività commerciali o non compra il digital signage o lo compra e non lo utilizza perché perché il digital signage è lo strumento è la forma di comunicazione ma se io attività commerciale non so cosa far vedere su questi su questi schermi ho fallito perché ho lo strumento ma non ho il materiale per utilizzare lo strumento ed è qui che nasce oppure ne faccio uno e poi dopo è sempre quello bravo bravissimo è bravissimo infatti spesso è proprio quella la frustrazione è magari pago un videomaker pago un professionista perché faccia un contenuto di qualità un video bene spendo anche 1000 euro perché lo voglio bello però dopo due settimane dopo tre settimane che vedo in loop in ciclo ogni minuto della giornata quel video io finisco dalla rabbia per spengere lo schermo perché non riesco più a vedere le stesse cose ed è qui che come accennavo prima è importante quando si sceglie la soluzione assicurarsi che questa abbia integrazione con i contenuti esterni sia quindi integrata sì con i video e le immagini che l'utente ha già di proprietà quindi una foto un video ma che soprattutto permetta di andare a catturare quello che oggi viene quotidianamente condiviso sulla rete quindi mi riferisco a recensioni TripAdvisor video di youtube news meteo è estremamente importante riuscire a catturare questi contenuti e visualizzarli sugli schermi ed è quello che abbiamo fatto noi come sfida la nostra azienda è nata proprio per risolvere questo problema perché ci siamo resi conto della grande potenzialità dello strumento digital signage e dall'altra parte ci siamo resi conto del problema dei contenuti e quindi ci siamo chiesti possibile che nel 2018 non ci possa essere uno strumento che è in grado di catturare tutti questi contenuti che vengono condivisi sul web e sui social e di visualizzarli sullo schermo in maniera quasi automatica senza che la persona debba essere un informatico un tecnico o un programmatore oggi la risposta è sì quindi Wally One che è la nostra piattaforma interamente in cloud e interamente sviluppata in Italia nasce proprio dall'idea di mettere a disposizione delle attività commerciali degli utenti un'ampia gamma di contenuti coinvolgenti rilevanti ed utili per l'attività commerciale in modo tale che io compro lo schermo ho già lo schermo connetto il nostro decoder il nostro computerino ed ho già una vasta varietà di contenuti che mi permettono sin da subito di arricchire lo schermo con contenuti che provengono dal web e dai social e che quindi vanno ad arricchire a migliorare e a rendere molto più convolgente l'esperienza dei clienti all'interno della mia attività e questo semplifica un bel po' la vita la domanda che ti faccio è bene io avrò immagino un catalogo vastissimo di cose da poter utilizzare ma come capiscono quali sono i contenuti che piacciono di più ai miei utenti per avvantaggiare il mio business e non magari per far semplicemente vedere della roba bella bella che rispecchia l'evoluzione del digital signage digital signage negli ultimi anni ha visto una crescita molto importante a livello mondiale proprio perché è una tecnologia che sempre più spesso viene integrata in soluzioni terze cosa vuol dire vuol dire che il digital signage può essere utilizzato come dicevo prima con un sensore di prossimità ma può essere utilizzato anche con un sistema di face recognition o con un sistema che rileva la presenza delle persone può essere abbinato a una fotocamera che rileva o meno la presenza di persone che guardano lo schermo e quindi non solo riesco a misurare quanto poi effettivamente lo schermo viene visto ma riesco anche incrociando dei dati magari provenienti da un CRM a vedere se l'offerta che io ho programmato dalle 3 alle 6 del pomeriggio effettivamente in quel range di tempo ha prodotto maggiori vendite e quindi presumibilmente è stato proprio il digital signage grazie a appunto la scelta di veicolare quel messaggio a quell'ora a portare poi maggiori risultati di vendita quindi quello che suggerisco sempre io è di incrociare di sfruttare oggi le tecnologie a disposizione e incrociare il digital signage con altri strumenti in modo tale proprio da avere anche dei risultati che ci possano permettere di capire quello che è stato il ritorno della nostra campagna utilizzando il digital signage beh questo è quasi anzi direi molto avveniristico ad ogni modo è un'opportunità mi rendo conto è un'opportunità che è in divenire e ogni volta che la tecnologia fa un passo in avanti questi schermi possono adattarsi benissimo per essere riutilizzati in mille maniere e integrati in mille maniere mi ti chiedo solo a questo punto una cosa abbiamo fatto venire l'acquolina in bocca a chi ci ascolta lo spero ci dai degli esempi concreti di utilizzi che hai visto di rendimenti raccontaci un po' di storie facci un po' di sognare in modo che chi ascolta si possa un po' immedesimare in alcune di queste soluzioni volentieri parto dagli esempi più classici come la sala di attesa all'interno di un'azienda e magari poi vado anche a dirti a dirvi dei casi un pochino più particolari ma partirei dagli esempi che facevamo prima quindi gli uffici ma anche le scuole quindi il digital signage può essere utilizzato per indicare dei percorsi o anche le norme di comportamento stesse ma anche il calendario degli appuntamenti le notizie in tempo reale dell'azienda stessa o magari della zona o a livello nazionale il meteo gli orari della metro gli orari dei mezzi pubblici dei video promozionali dell'azienda stessa o anche delle frasi motivazionali magari apro la porta dell'ufficio dai che ce la fai dai che ce la fai alle nove o magari alle cinque e mezzo la frase motivazionale no Montemagno no basta basta per arrivare all'ultimo sprint della giornata quindi questo è un uso diciamo sicuramente più innovativo all'interno di uffici e scuole abbiamo anche dei clienti che sono conosco scuole utilizzano proprio lo strumento per mostrare ai genitori ai visitatori della scuola anche quello che viene fatto all'interno della scuola stessa e gli studenti hanno la possibilità sfruttando i social di far vedere sugli schermi le attività che vengono fatte all'interno della scuola stessa quindi è proprio uno strumento sia di comunicazione interna sia di comunicazione con le persone che stanno all'esterno della scuola stessa ho parlato tanto di ristoranti e pub perché secondo me sono due location dall'altissimo potenziale per il digital signage perché gli schermi possono essere strumenti per promuovere i menu promuovere eventi visualizzare le recensioni di TripAdvisor visualizzare foto e messaggi social video dietro le quinte veramente è un settore di utilizzo dove l'unico limite è la fantasia perché lo schermo facciamo facciamo una campagna contro le foto ingiallite nei bar perché per favore anche io sembra la gente con la croce questo è morto questo non viene più i quadri appesi alle pareti dov'è che devo firmare per la petizione per rimuoverle si guarda è di una tristezza perché le persone poi le lasciano lì magari cambiano le gestioni ma ancora c'è la foto non so del VIP quando aveva i capelli adesso è 80enne francamente ragazzi cioè con le foto ingiallite accartocciate dal tempo verissimo uno strumento di questo tipo perché almeno uno può interagire scrivere anche due stupidaggini sui social gira il vostro brand con le foto lì gialle sapete un po' di vecchio ma il discorso oggi dei social quindi la possibilità di andare a prendere i messaggi dei social è un grande vantaggio anche per l'attività stessa perché se io oggi già scrivo qualcosa sui social corretto o non corretto non voglio come dire parlare di questo ma quel messaggio lì sfruttando il digital signage può andare in maniera automatica sullo schermo quindi in un colpo solo io pubblico un post su facebook sulla pagina la foto di un piatto la foto di qualunque cosa e la vedo anche sullo schermo del mio ristorante e quindi è sicuramente meglio di quella foto ingiallita vecchia che nessuno guarda e allo stesso modo anche i negozi al dettaglio come dicevo prima dall'abbigliamento all'alimentari ma all'enoteca qualunque negozio al dettaglio può sfruttare il digital signage per pubblicizzare nuovi arrivi per pubblicizzare offerte sconti promozioni o anche mostrare come utilizzare al meglio determinati prodotti cioè può essere lo schermo anche il modo per accanto a un prodotto farti vedere come si usa e quindi invogliarti all'acquisto abbiamo alcuni clienti che lo usano a questo scopo e mi hanno detto più volte Ale non ti immagini da quando ho inserito ho messo lo schermo le vendite sono aumentate perché poi alla fine non è non è solo anzi non è un elemento di arredo il digital signage nonostante alcuni lo utilizzino anche come elemento di arredo ma è uno strumento che deve e può generare un ritorno sull'investimento deve aumentare l'evento deve avere un obiettivo come dicevo prima chiaro di marketing commerciale di comunicazione interna il digital signage è uno strumento a tutti gli effetti quindi come tale deve avere un proprio obiettivo posso farti anche l'esempio per esempio di palestri o di centitermali che puoi spiegare come usare una panca correttamente non solo non a me non a me però non solo quindi magari come video tutorial ma anche per trasmettere contenuti per esempio per dare energia se sono in palestra o magari poca voglia dei video anche lì motivazionali delle frasi motivazionali oppure una spa per far rilassare gli iscritti o proprio perché sono all'interno di una spa o di una palestra utilizzare gli schermi come strumento per fare upselling o cross-selling già di servizi che il mio centro ha io vado in una palestra e non ho o meglio ho scoperto poco fa pochi giorni fa che dentro c'è anche il bagno turco io ho la sauna io non lo sapevo semplicemente perché non ero mai andato in una stanza 20 metri più in là perché usavo sempre il primo spogliatoio ecco se la palestra avesse invece di utilizzare lo schermo solo per vedere MTV o avesse utilizzato anche per comunicare visualizzare le foto anche solo della sauna sicuramente io avrei scoperto di questo servizio in più quindi lo strumento a me sta cosa inquieta perché mi hai detto così che ci sono i sensori non vorrei che quando mi avvicino io alla panca mi cominci a dire ciccione corri dai è una sfida è una sfida ho paura però o il sergente istruttore Hartman ma che fai palla di lardo tu non fai nessuno sforzo per superare questo maledetto ostacolo dal cazzo se Dio te la voleva far superare senza sforzi ti miracolava è una sfida è una sfida full metal jacket che mi urla in faccia palla di lardo però pro e contro pro e contro di tutte le cose è pericolosa è pericolosa o anche per concludere negli hotel la possibilità di utilizzare gli schermi non solo anche qui per promuovere i servizi dell'hotel stesso palestra fra parentesi anche se non ti piace è utile ma anche per sapere cosa vado a vedere in giro io tante volte viaggiando sono stato da solo in hotel che è la pena peggiore di chi viaggia per lavoro cioè la solitudine di andare a mangiare da soli così uno dice magari se sapesse che a 500 metri c'è una cosa da vedere assolutamente assolutamente non mi voglio dilungare troppo credo di aver dato degli spunti interessanti poi ognuno credo che possa prendere l'input per pensare e questo è anche il mio di input a come poter utilizzare uno schermo al meglio per la propria attività perché sfido lo sfido veramente quasi la totalità delle attività commerciali a come dire a chiedersi se non hanno bisogno di uno schermo sfido veramente perché difficoltà a pensare a un luogo dove uno schermo non potrebbe avere un'utilità quindi questi sono solo degli input che do e poi lascio ai nostri ascoltatori di provare a pensare e provare a immaginare anche l'utilizzo di uno schermo all'interno del proprio contesto di lavoro o nel caso dell'ufficio o anche il contesto del lavoro nel caso in cui si abbia un'attività commerciale è certo è molto molto vero quello che dici cioè cominciamo a pensare che questo non è il futuro è già presente oggi in tante realtà che comunque guadagnano di più da questi schermi e perché non usarli tra l'altro molte volte lo schermo ce l'abbiamo già è semplicemente spento non abbiamo più rinnovato il contratto quindi magari cercare di capire anche come sfruttare un investimento che già abbiamo fatto poi oggi Giorgio la tecnologia monitor tv ha dei costi estremamente accessibili oggi vado a Euronics vado a Troni con 250 euro non so di preciso mettiamo 300 euro mi porta a caso lo schermo non è uno schermo professionale è vero gli schermi professionali che io consiglio perché hanno delle durate delle rese che sono superiori rispetto a quelli commerciali costano leggermente di più però anche se io volessi partire con un monitor da casa oggi ho la possibilità di poterlo comprare a dei prezzi estremamente accessibili e proprio grazie al fatto che il digital signage è diventato alla portata di tutti ho con un bassissimo investimento la possibilità di rientrare della spesa fatta e poi di guadagnare proprio utilizzando uno schermo nella mia attività eh certo io ho io ho presente so qui vicino a casa mia c'è una società che si chiama si computer una società storica di informatica eh diciamo che fa computer ma fa anche digital signage e li fa bellissimo perché lì li plasma anche un po' su misura sembrano proprio delle opere d'arte però uno va e compra da troni uno schermo e il suo servizio glielo fa quindi uno ha tutti i range per poter essere operativo sin da subito se però eh qualcuno avesse delle domande da farti io so che tu sarai con me il 24 di marzo a Roma per il wellness marketing power quindi ci vedremo lì e comunque ci sarà la possibilità di incontrarti ma per coloro che invece eh non sono nell'ambito wellness fitness eccetera benessere e non verranno a Roma come possono entrare in contatto con te sì assolutamente consiglio a tutte le persone che in questo momento ci stanno ascoltando e che hanno un lavoro nell'ambito wellness palestra eccetera termali assolutamente di venire a Roma il 24 marzo perché darò proprio degli punti pratici verticali e diretti su come utilizzare gli schermi nelle appunto nelle attività che ho precedentemente elencato per tutti gli altri assolutamente consiglio invito di visitare il nostro sito web www.wallin1.tv wallin scritto come w a l l i n o n e quindi wallin1 d 1 .tv dove possono richiedere una prova gratuita della nostra piattaforma e vedere in tempo reale quello che potrebbero visualizzare sul proprio schermo semplicemente inserendo la propria pagina facebook è semplicissimo è un bottone richiedi prova gratuita inseriscono la pagina facebook della propria attività commerciale e in 30 secondi il sistema in completa autonomia genera un un esempio di quello che può essere un canale tv personalizzato che è generato appunto al nostro software di digital signage molto carino e molto d'effetto perché appunto abbiamo parlato tanto e magari può sembrare una cosa difficile complessa che porta via tanto tempo ma noi siccome vogliamo proprio cambiare questo concetto e questo pensiero abbiamo cercato di fare qualcosa che sia estremamente semplice veloce e funzionale che permetta veramente a chiunque di poter utilizzare gli schermi in maniera più profittevole ma anche di capire immediatamente quale sarà il risultato finale perché poi a parte lo schermo se lo vedo subito mi aiuta molto poi l'ultimo riferimento che voglio lasciare a parte l'inkedin dove gli ascoltatori mi possono trovare con il nome Alessandro Messineo mi possono scrivere anche un'email a a.messineo cioè la wallin.tv anche qui wallin scritto come w-a-l-l-i-n .tv certo poi tutti gli appunti della puntata li troveranno al solito posto su merita.biz quindi se si perdono qualcosa non stiano a smettere di guidare o a sbattere contro il muro perché guardano il cellulare non vi preoccupate abbiamo messo tutto da parte e andateci dopo quando avete un attimo di calma grazie Alessandro per quello che ci hai raccontato molto interessante sicuramente una via un po' diversa e magari meno scontata di promuoversi grazie davvero per tutti gli esempi che ci hai fatto grazie a te Giorgio e complimenti per il podcast perché sono anch'io un tuo fedele ascoltatore ed è sei un meritevole assolutamente sì è stato un enorme piacere poter contribuire ed essere dall'altra parte e non vedo l'ora di riascoltare questa puntata e ovviamente le prossime che condividerai con noi ascoltatori grazie grazie davvero questa non la sapevo bella sorpresa grazie mille ciao a presto ciao Giorgio bene anche oggi abbiamo imparato qualche cosa di interessante ovviamente gli appunti della puntata sono sempre disponibili al solito posto su merita.biz barra 146 episodio 146 prima di chiudere però la puntata di oggi segnalo a tutti gli appassionati di podcasting che oppure le persone che vorrebbero fare un podcast che il 14 aprile si svolgerà a Bologna il primo podcasting meetup d'Italia se volete sapere di più siccome è davvero comodo per fare una giornata magari un po' particolare un po' diversa ma anche di andare e venire in giornata usando i treni ecco l'indirizzo per questo evento molto molto interessante che si svolgerà a Bologna il 14 aprile è podcastitalia.com tutto attaccato tutto scritto così podcastitalia.com come sempre se avete domande potete lasciarle attraverso un messaggio telegram su telegram.me barra giorgio Minguzzi scritto tutto per esteso oppure usare la pagina merita.biz barra ask merita a-s-k merita dove potete registrare un vostro audio messaggio che userò per rispondervi durante una delle puntate del podcast bene davvero tutto per oggi io sono Giorgio Minguzzi e questo è Merita Business Podcast ciao Merita Business Podcast la guida agli strumenti per rendere grande la tua idea di impresa ci trovi su iTunes Stitcher Spreaker e Google Play www.merita.biz e-mail.com per rati